In mattinata, nonostante il diluvio, ecco le controfigure di Torino e Genoa, vale a dire le formazioni di Ultra, Granata e Rosso Blu, che hanno dimostrato come un campo di calcio possa unire e non per forza dividere. Quindi di pomeriggio ecco il più spettacolare Torino di tutta la stagione, trascinato da Bresciani, autore di un gol e ben tre assist, e da Scoro, del quale si erano perse tracce qualcosa come sei mesi fa. Il primo tempo offre innanzitutto 30 minuti irresistibili dei padroni di casa, che puntando sul ritmo e sull'aggressività mettono seriamente in crisi un Genoa, quantomeno frastornato. Gli attacchi frontali in profondità della squadra di Mondonico esaltano le proiezioni di Lentini, Sordo e Policano, alternate alle combinazioni di Bresciani e Scoro. Dopo appena 27 minuti la gara è virtualmente chiusa, anche perché il tentativo dei Liguri di riguadagnare il controllo del centro campo ottene il solo risultato di prestare il fianco al micidiale contro piede avversario. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo il Genoa torna finalmente a fare il Genoa, schiaccia il Torino nella sua area di rigore e raggiunge il gol che chiude una frazione entusiasmante. L'intervallo consente Granata di superare il periodo di momentaneo appannamento, ma gli uomini di Bagnoli sono irriducibili e la tredicesima rete segnata da Aguilera corona l'orgogliosa reazione della squadra rosso-blu. Il contropiede del Torino tuttavia è sempre in agguato e per due volte con Dino Baggio e Policano il Genoa ricade negli errori dell'avvio di gara, formazione sbilanciata in avanti e difesa troppo scoperta. L'ultima rete, a 10 minuti dallo scadere, è realizzata con la complicità di una deviazione di Caricola che inganna il portiere Piotti. È possibile segnalare qualche uomo piuttosto che un altro in un aggraudatorio di meriti o no? Ma quando fai di questi risultati bisogna un po' accomunare tutto quanto, penso però di non offendere nessuno parlando dell'altruismo di Bresciani o del gol finalmente ritrovato di Scolo. Senz'altro due giocatori che oggi hanno dato moltissimo. Bresciani, dodicesimo gol in campionato ma anche uomo assist. Guardi, tutto questo fa piacere, è un gol che dedico a mio nonno che è mancato venerdì, sono già andato a vedere, quindi un gol che dedico a mio nonno ripeto che non c'è più. Ecco ma oggi si è visto appunto un Bresciani anche che ha fornito delle palle bellissime a Scolo. Sì, ho fatto fai due gol a Scolo e uno a Baggio, quindi sono contento, soprattutto per Ares che ritrovo il gol dopo tanto tempo, quindi appena ho visto l'Ares Libro glielo l'ho data senza problemi. Nel primo tempo, una volta tanto, due partite al prezzo di una. Prima la grande partenza del Turino, poi la grande reazione del Genoa. Sentiamo Bagnoli. Ci dispiace per la gente che si è mossa, è chiaro tutti i tifosi, oggi sono visto appunto quello che si leggeva che c'erano 10 mila Genoani e probabilmente sentivano il momento e aver preso 5 gol proprio in questa domenica qua fosse antipatico, ma però io penso che anche il tifoso abbia capito che la squadra ha fatto una partita molto generosa, che ha fatto di tutto, perciò anche sbagliando magari in certi momenti, però è da mirare per la generosità che ha profuso. Presidente, una sconfitta di proporzioni clamorose? Ma guardi, io credo che questa sconfitta sia una sconfitta sul morale della squadra, perché è stato un grande Torino che naturalmente ha giocato bene, quindi non voglio assolutamente togliere i meriti al Torino, però noi ci siamo aperti in un modo incredibile e quindi il Torino è andato dentro come ha voluto.